Diamo seguito a una serie di presentazioni che hanno un notevole successo da tempo nella nostra libreria. Siamo molto contenti che il pubblico sia sempre numeroso. Oggi ospitiamo Roberto Gargiulo che mi ha raccontato di un viaggio odissiaco per riuscire a raggiungere Milano. Ma nonostante questo è qua pronto a presentarci il suo libro su Dracula, la biografia di Vlad Tepes, Principe della Valacchia. Quindi io cedo la parola a Roberto e a Giuseppe. Buona presentazione a tutti. Grazie a Yacabu che ci ha ospitato per molte tappe. Questa è l'ultima del ciclo Medioevo Quante Storie dedicato agli incroci tra storia e letteratura. Incroci che hanno portato a molti bei risultati sia dal punto di vista della saggistica sia dal punto di vista della narrativa. Questa sera abbiamo un saggio, quindi non un romanzo, anche se a certi toni in certi momenti sono romanzeschi. Tant'è vero che il personaggio a cui è dedicato ha contribuito a un grandissimo filone letterario e diciamo anche cinematografico di successo. Scusate la voce, sono due giorni che la risparmio, però ci tenevo a farlo perché il libro merita. L'argomento è veramente affascinante e la vostra numerosa presenza qua me lo conferma. E poi perché io stesso ho inaugurato questo ciclo nel lontano settembre con un altro bel saggio dedicato a un'altra bella figura, Renzo, figlio di Federico II di Svevia. Era anche questo con un'editrice bolognese come quello di oggi, editrice Minerva, di cui saluto e ringrazio il responsabile Guido Mugadro. Che dire, io ruberò solo 5 minuti per introdurvi a questo argomento che è un po' particolare perché qui sfatiamo un mito che è dire consolidato e dire poco. Noi abbiamo queste immagini del vampiro, mantello nero, canini, pallido, sangue che scende dalle giungive, occhio al collo, paletti, e forse qui ci avviciniamo un pochettino alla realtà storica, paletti di Frassino, però non sono proprio paletti piccolini, sono proprio grossi. Io ho conosciuto il personaggio, paradossalmente il personaggio storico di Dracula, quando sono andato a vedere al cinema, bel po' d'anni fa, il Dracula di Bram Stoker di Coppola. Perché nei primi minuti appare questa scena, finalmente, diciamo, finalmente, perché dopo comunque i contributi cinematograficamente apprezzabili con Christopher Lee, Bella Lugosi, quelli un po' più divertenti con Fracchia contro Dracula, per favore non mordermi sul collo, o anche quelli musicali con Dracula Chachachà, cantati dai mitici Renato Rascher e Bruno Martino, che, insomma, hanno spopolato nelle state degli anni 60-70, ecco, appariva, anche se solo per qualche minuto e con un'armatura piuttosto improbabile, diciamo, più debito verso i samurai giapponesi che non verso l'armeria militare del XV secolo europeo, questa figura di questo principe della Valacchia, Transilbagna, Valacchia, l'autore ci spiegherà bene oggi. Ci dobbiamo spostare, fare un salto di cinque secoli e mezzo. In realtà sarebbero un po' meno, perché il Dracula che noi conosciamo attraverso il cinema, quello del vampiro, nasce, o meglio, si consolida, con quello creato dall'irlandese Bram Stoker nel 1897. In realtà il Dracula storico, Vlad Tepes, Vlad III, nella linea di governanti del suo paese, la Valacchia, che si trova qua, nasce il 2 novembre, a mare, nel 1431, a Sigishoara, una città al confine, verso la Transilbagna, diciamo così, quindi la Transilbagna in qualche modo c'entra e c'entrerà, come scopriremo. Cosa succede? In Europa, in questo 1431, o comunque in questi anni, perché è importante capirlo? Perché è importante capire che questo personaggio qua, al di là della figura mitica legata alla crudeltà al sangue, ha rappresentato una figura di rilievo nel suo secolo, non solo per l'area balcanica, ma in generale per tutta l'Europa. Ora, è una domanda un po' da what if anglosassone, quello che dice il professor Tomasi Carpegna Falcogner, la chiama storia controfattuale, cosa sarebbe successo se non ci fossero stati i palacchi e i albanesi, in quegli anni in cui, Ugeria, Austria, Bohemia e Polonia, più che opporsi ai turchi, litigavano tra di loro, più che fare la crociata di difesa con l'Europa, utilizzando i soldi che il papato gli mandava, per loro motivi personali, invece che aiutare chi era impegnato in prima linea, in prima linea sul proprio terreno, sul proprio paese, e magari anche pugnalandoli alle spalle, come vedremo qualche volta. Alla fine lo stesso papa, che uno non direbbe mai, ma elogiò, ci fu un periodo in cui elogiò, Dracula, per il suo impegno isolato, si stava decidendo a imbarcarsi per la crociata, non vi anticipo cosa fece, concludo solo dicendo che il rapporto tra la Valacchia e il resto dell'Europa e anche l'Italia, effettivamente in questi anni si vede anche dalle testimonianze degli ambasciatori, degli emissari, abbiamo ambasciatori veneziani, ambasciatori pontifici, ambasciatori milanesi, lo stesso comandante di Ungheria, detto Cavaliere Bianco, Iano Sunnadi, che era di origine, diciamo, rumena, transilvana, Iancu di Cuneodana, una città della Transilvania, è stato al servizio del Duca di Milano per un certo periodo, Pippo Spano, che forse qualcuno di voi era visto agli uffizi di Firenze in quel dipinto, con questa sciabala, questa splendida armatura, si vede il volto barbuto senza elmo, è il nome slavizzato di Filippo Scolari, comandante toscano, al servizio del regno di Ungheria e anche degli Asburgo, nelle guerre ussite e alla cui scuola militare si formò Iano Sunnadi, protagonista del saggio di cui parleremo oggi. Io intanto sono debitore a Giuseppe per almeno due motivi, il primo perché mi ha risolto un problema che definirei essenziale, nel senso che mi ha permesso di essere qui oggi, è stato il mio tom-tom reale e non virtuale, perché senza di lui io probabilmente sarei ancora perso in qualche anello della circonvalazione a cercare un'uscita data, perché non mi è riuscito. E poi per l'introduzione, perché lui ha fatto un'introduzione storica, secondo me estremamente calzante e precisa, che permette quindi di inquadrare bene il personaggio e l'epoca in cui si trovò ad operare. Però, devo dire una cosa, questo libro nasce anche da un'esigenza particolare. Come tutti gli archeologi di formazione, anche se poi strada facendo viene in qualche modo contaminato, come nel mio caso, dalla storia, dalla storia medievale, dalla storia militare, ti rimane una perversa esigenza interiore di andare alla radice di qualcosa, di una storia, di un personaggio, di un gruppo, di un popolo e così via. Una radice che è fatta anche, sì, di ossa, di vestigia, di reperti, ma è fatta anche di storie individuali, di persone, di percorsi umani. Ed è quello che è accaduto a me nel momento in cui ho avuto l'idea di questa biografia di Dracula. In realtà mi ero occupato, e mi sono occupato a lungo delle incursioni ottomane in Friuli soprattutto, perché è la zona antimurale, è la zona di frontiera della Repubblica della Serenissima, soprattutto nel XV secolo. Le incursioni che per la nostra terra hanno significato molto, hanno significato molto in termini negativi, ma anche paradossalmente in termini storici, in termini di crescita, in termini di maturazione. Voi pensate solo che io abito a pochi chilometri da le terre pasoliniane, dalla casarsa di Pasolini, quindi dalla casarsa dei Tubes, che voi avrete sicuramente sentito a nominare. Ecco, sin da bambino respiri questo mito, queste iscrizioni che ti sono sotto gli occhi tutto il giorno, e quindi la curiosità finisce col coinvolgerti, anche se non vuoi. Da qui è nata, per esempio nel mio caso, questa spinta alla ricerca legata alla storia ottomana. E da questo particolare, in modo preciso, questa è una sinopia che è conservata nella torre di San Vito a Tagliamento, una delle torri delle mura del paese. San Vito a Tagliamento fu uno dei centri paradossalmente risparmiati dall'incursione ottomana, sia quella più importante del 99, sia quella precedente del 77. Quella del 72 probabilmente non ha dovuto il tagliamento stesso. Durante questa serie, in realtà, noi sappiamo che gli scorridori, che poi troveremo anche nella storia di Dracula, che si occupavano di queste incursioni che erano davvero bestiali, nel senso che nascevano da una precisa esigenza politica che era quella del sultano di turno, di indebolire e augurare l'avversario di turno, in questo caso la Serenissima, ma potrebbero essere le terre imperiali, i piccoli potentati balcanici, attraverso delle incursioni nelle quali sostanzialmente si dava carta bianca, mano libera, a degli uomini che per loro stessa natura, per indole, per tradizione, erano degli saccheggiatori. Il nome stesso Akinji, con cui venivano definiti questi cavalieri leggeri, questi incursori, sta a significare nella radice turca Aktin, cioè praticamente di mestiere saccheggiatore, cioè erano persone che del bottino facevano la propria ragione d'essere, la propria ragione di vita, la propria e quella del proprio clan, della propria comunità. Questi saccheggiatori erano velocissimi, in una settimana colpivano un territorio in profondità per centinaia di chilometri, riuscivano a radere al suolo abitanti, riuscivano a prelevare migliaia di prigionieri, riuscivano a distruggere fortificazioni, a razziare bestiame, soprattutto la cosa più importante è distruggere i raccolti, non a caso colpivano normalmente in due fasi dell'anno, quella della primavera inoltrata e quella dell'autunno, al momento, quindi della raccolta, al momento della semina, e questo per infliggere il maggior danno possibile all'avversario. Infatti in Friuli questo accade sistematicamente, ma non solo in Friuli, accade nelle terre di confine, accade in Carniola, accade nel cuore stesso dell'Europa. Quindi questi incursori colpivano la fantasia di queste popolazioni per i danni, per la crudeltà che portavano con sé e per questo aspetto inquietante diciamo che li caratterizzava questa sorta di pittore dilettante che ha immortalato in forse poco più di due sere questi profili di cavalieri come vedete con le classiche diciamo con la classica fisognomica balcanica regionale, orientale, notate gli zigomi particolarmente pronunciati, il naso leggermente schiacciato, questi grandi baffoni spiodenti e così via il turbante nell'insieme la figura ricorda chiaramente una certa iconografia comune nel Medioevo ma quello che mi ha colpito sin da allora è stata la curiosa assonanza tra questa figura e questa che poi ritrovai qualche anno dopo in un libro di storia e che è il ritratto forse più conosciuto che noi abbiamo del nostro Vlad Tepes il cosiddetto ritratto di Ambrash che è un castello del Tirolo dove un arciduca tirolese appunto conservò la cosiddetta galleria degli orrori praticamente una raccolta di quadri di rappresentazioni di individui che per motivi particolari si caratterizzavano per deformazioni o comunque per aspetti particolarmente horrorifici del fisico o della loro fama ecco questa strana assonanza questa curiosa similitudine mi ha incuriosito sin dal 99 quando lavoravo questo progetto questo primo progetto sui turchi e così quando dopo nella ricerca almeno per la legata di domani il nome di Tepes è ritornato prepotentemente ripetutamente diciamo che è scattato come quasi una necessità cioè quella di scrivere la storia di quest'uomo scoprendo poi che in realtà quest'uomo era quello che aveva popolato sotto altre vesti come ha ricordato giustamente Giuseppe la mia infanzia io ho un'immagine ben precisa di Cristo Ferli che ha popolato le mie notti da preadolescente che mi ha impedito di dormire a lungo devo dire perché avevo questa faccia questo uomo esangue altissimo questi capelli impumatati era una cosa che mi metteva un'angoscia tremenda di cui mia sorella devo dire profittava sistematicamente per peggiorare le mie notti che rimanevano da tutte insomma tornando invece a noi quella rappresentazione così come posso dire così semplice così da principiante diciamo nella sinopia si collega al nostro Tepes attraverso questa sorta di anello di congiunzione questo è un boinic che cioè è un ausiliare leggero della fanteria valacco moldava era un combattente in buona sostanza che costituiva all'essenza stessa l'asse portante dell'armata di cui poi parleremo con cui i valacchi affrontarono sia la marea non tanto ottomana sia le lotte tra potentate che come ricordava Giuseppe appunto hanno caratterizzato soprattutto il 14esimo secolo quindi da questo dinamismo di fatto dicevamo gli ottomani continuarono la loro opera di espansione nei Balcani e che possibilità poteva avere con dei vicini così potenti quindi diciamo da una parte questo enorme impero in piena espansione e dall'altra il Sacro Romano Impero con gli stati adesso in qualche modo connessi come il Regno d'Ungheria che quindi rappresentavano gli antemurali l'ultima frontiera delle potenze cristiane in Oriente come poteva un piccolo potentato come era in questo caso il Principato di Valacchia o anche quello di Moldavia tentare o sperare di resistere a diciamo di mantenere il sogno di una indipendenza di poter sopravvivere in maniera pure semplice eppure nonostante questo la storia della dinastia Draculesti ma della stessa dinastia Bessarabica è l'incarnazione di come un insieme di ambizioni di sogni dinastici di come potremmo definire e anche di identificazione col proprio popolo e con la propria terra impedì a questi uomini di rendersi conto delle inanità di questo sogno e lì coinvolse in una faida che di fatto durò qualcosa come tre secoli consumando le loro vite e quelle della loro stessa popolazione in fondo come ricordava Giuseppe il primo grande sovrano in Valacchia fu questo Bessarab chiederà proprio Bessarab I chiederà anche il fondatore non a caso chiederà il nome all'intera dinastia e sarà lui che in qualche modo riuscirà a gettare le basi della futura Valacchia e quindi quello che sarà il nucleo storico se vogliamo dell'attuale Romania perché come ricordava Giuseppe la Romania noi sappiamo è costituita da tre attualmente ma anche allora le tre nuclei fondamentali la Moldavia la Valacchia e la Transilvania Transilvania come ricordato prima che era formata da almeno tre etnie diverse tra loro ed era in ultima istanza uno stato vassallo dell'Ungheria e quindi come tale rappresentava soprattutto una frontiera irrequieta indocile della potenza Maggiara la Valacchia che aveva una omogeneità etnica maggiore e la Moldavia che in qualche modo deriva la sua stessa nascita la sua stessa esistenza dalla Valacchia stessa con Mircea il Grande che fu forse più grande e sovrano appunto della dinastia Bessarabica la Valacchia divene qualcosa di più di un potentato di confine si lega alle grandi correnti commerciali e politiche dell'Europa e dell'Europa centro-orientale in particolare inizia a godere di un periodo prolungato di fluvidenza economica e politica interna già tale base insomma di quello che potrebbe divenire un vero e proprio Stato autonomo e abbastanza potente cosa che tutto sommato non viene vista di buon occhio né da Lungheria come è ovvio perché non dimentichiamo mai che la lotta anche di religione tra questi grandi potentati cristiani cattolici come appunto l'impero e l'Ungheria e questi piccoli potentati come la Moldavia e la Valacchia rimasti orfani dopo la caduta di Costantinopoli del loro patriarcato segnerà tutta la storia dei Balcani la diatriba tra queste forze cristiane al loro interno era tale per cui spesso e accadde in particolare per gli ortodossi preferirono darsi donarsi o cedere semplicemente alle pressioni ottomane piuttosto che soggiacere a quella che era invece il controllo e la come possiamo dire il tentativo di di vassallaggio esercitato dalle potenze cristiane e cattoliche di confine come era appunto quello ungherese non a caso come ricordava giustamente lui la vita stessa dei dinasti valacchi sarà caratterizzata al di là del fatto che fossero in muto tra di loro proprio da questo difficilissimo tentativo di gioco politico che li portava a vivere sul filo nel rapporto tra questi due giganti tentando disperatamente di sopravvivere che era la loro unica istanza in ultima legge però come ricordavo prima da Mircea il grande con Mircea il grande in realtà la dinastia Bessarabica si divide in due dinastie in due sottodinastie quella che noi chiamiamo dei Draculesti adesso scopriamo perché e quella che viene conosciuta come Danesti dal nome di Dan II che era un fratello di Mircea da cui si originerà quindi un ramo collaterale della dinastia principale che però sarà diviso da quello dei Draculesti da un odio atavico che caratterizzerà il succede per il sì continuo dei sovrani sul trono di Draculesti in questi casi come ho detto fin dall'inizio e con questo chiuderei perché se no la prima vittima di tutta questa operazione culturale letteraria è stata inevitabilmente il personaggio storico che si è perso nelle ombre del passato perché solo ora attraverso una meritata opera di recupero e attraverso fasi intermedie che per esempio hanno coinciso con epoche particolari non a caso Ciauzescu durante l'epoca del dispotismo in Romania negli anni 70-80 aveva fatto di Dracula un eroe nazionale non per quello che era la reale valenza da un certo punto di vista indubbiamente fu un personaggio importante per Cia Levalacca ma perché lui poteva identificarsi col piccolo padre di tradizione ortodossa che per certi aspetti è ancora sentito come tale ho alcuni amici rumeni o anche il buon professor Bulei quando me ne parlava a suo tempo facendo la nostra le mie le prime curiosità uomo razionale uomo colpo uomo intelligente oppositore del regime tutto quanto eppure si capiva che lui in qualche modo cedeva a sua volta un po' al fascino del personaggio questo uomo che era una gloria in fondo era una gloria nazionale che era l'uomo il Golia il Davide che aveva affrontato il Golia infedele lo aveva in qualche modo battuto ognuno bloccato io direi a questo punto che non fermerei ma se siete stati già così pazienti non vorrei rifliggere il colpo di grazia vi ringrazio moltissimo